Ciao a tutti, grazie agli ospiti che vedo solo al computer, non di persona, questa è una delle grandi novità dell'ultimo periodo. Con alcuni colleghi ci stiamo confrontando sul fatto che quanto è migliore o meno l'utilizzo di strumenti come zumo o gli altri strumenti del genere. Devo dire che da docente, vabbè, doveva passare la nottata e quindi l'abbiamo fatta passare, però non è come fare lezioni o ragionamenti in diretta. Purtroppo non si poteva fare diversamente, credo che tutti i colleghi abbiano avuto modo di usare gli strumenti tipo zumo con tutto quello che comporta in positivo e negativo. Noi abbiamo gestito via zoom o via altri software tutta la didattica del secondo semestre e non posso dire che non ci siano stati problemi. Ce ne sono stati, vabbè, però non si poteva fare altrimenti. Allora, passiamo alla parte più importante. Vi dico subito l'elenco delle persone che abbiamo online con l'appartenenza di ognuno. Professore Enrico Lavezzo dell'Università di Padova. Buongiorno. Buongiorno a te. La professoressa Daniela Felicini di Roma, Tolvergata. Buongiorno. La dottoressa, credo, o professoressa? Dottoressa. Vabbè, nessuno è perfetto. Sono anche astemia, pensi? Prego. Sono anche astemia, pensi? A proposito di nessuno è perfetto. Dicevo, la dottoressa Barbara Gallavotti, autrice per Superquark, che è un'altra emissione benemerita che tutti conosciamo, credo. è ospite, credo più o meno fisso, di martedì, programma su, non mi ricordo più. La sette. La sette, quello condotto da Giovanni Floris. E poi il professor Gasparini del Politecnico di Torino. Buongiorno. Come dicevo, non c'è un ordine che abbiamo seguito in base a una logica. Però in qualche modo, sia pure a caso, io direi che l'intervento che adesso ci si accende a fare il professor Ravezzo dovrebbe essere un po' il punto di partenza. Non abbiamo concordato una serie di punti da trattare, ma dato che si è occupato del problema della pandemia, in particolare nel Veneto, sarà interessante capire quello che dice. Quindi, Enrico Ravezzo, vuoi cominciare? Sì, condivido le slide. Ecco, vediamo le tue slide. Vedete tutto? Ok. Sì, io sì. Ok. Raccontaci. Bene, buongiorno intanto. Sì, io vi parlerò un po' delle prime fasi della pandemia in Italia e vi parlerò anche di come abbiamo condotto lo studio sulla popolazione di Vo, che è stato il primo centro in Veneto, che appunto è diventato famoso perché è stato caratterizzato e identificato lì uno dei primi casi in Italia di infezione da SARS-CoV-2. Ripercorrendo un po' le tappe dell'inizio di questa pandemia in Italia, la prima data è il 20 di febbraio, con il primo caso di COVID-19 identificato a Codogno in Lombardia e il giorno successivo, quindi il 21 di febbraio, sono stati identificati i primi due casi in Veneto e questo è successo appunto a Vo, un paesino sui colli ugani in provincia di Padova e è qui che è avvenuto anche il primo decesso dovuto appunto a questo virus. Inutile dire che a gennaio, febbraio, se avessimo dovuto scommettere su dove si sarebbero verificati, se si sarebbero verificati, i primi casi di coronavirus in Italia penso che nessuno o quasi avrebbe scommesso su questo paese, appunto un paesino di circa 3.000 abitanti, e invece qui sono stati identificati i primi casi, qui è stata instaurata la prima quarantena a livello nazionale insieme anche ad altri comuni in Lombardia e proprio questa quarantena che di fatto ha isolato circa 3.000 persone dal resto d'Italia ha consentito di ideare questo studio di cui vi parlerò brevemente che ci ha consentito poi di comprendere anche alcuni tratti fondamentali di questa infezione e appunto è quello che vi mostrerò a breve. Come è avvenuto questo studio? Quindi qual è il disegno? Innanzitutto abbiamo potuto sfruttare appunto il fatto che ci fosse una popolazione chiusa diciamo in un determinato contesto geografico che quindi non avesse più contatti con l'esterno e questo per un periodo di circa due settimane. Quindi in questo periodo sono stati effettuati due screening a tappeto su tutta la popolazione volontaria e in particolar modo all'inizio della quarantena e un secondo screening verso la fine della quarantena. Screening di tamponi nasofaringei, quindi tutta la popolazione volontaria che si è presentata veniva analizzata, quindi veniva effettuato un tampone nasofaringio e i risultati appunto sono questi che vi sto mostrando. Di circa 3.000 residenti a Vaux abbiamo testato più dell'85% delle persone al primo screening, più del 70% al secondo screening, quindi c'è stata un'elevatissima partecipazione da parte della popolazione e di questi al primo screening abbiamo identificato 73 casi positivi per una prevalenza del 2,6% mentre al secondo screening questa prevalenza è calata all'1,2% con solo 29 casi positivi e di questi soltanto 8 erano nuovi rispetto a quelli identificati in precedenza, quindi 21 erano conferme della positività del primo screening, 8 erano nuovi casi. Oltre ai dati di prevalenza e quindi di positività al virus, siamo stati in grado di raccogliere anche una enorme mole di dati per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti, quindi caratteristiche demografiche, caratteristiche cliniche, relazioni di parentela, nuclei familiari, i contatti che queste persone hanno avuto tra di loro e questo ci ha consentito ovviamente di poter indagare anche altri aspetti, in particolar modo qui vedete presentato uno dei risultati più importanti del lavoro, ossia qual è la quota di persone asintomatiche che sono state rilevate essere positive al virus. vedete che nel primo campionamento 34 dei 73 soggetti positivi, quindi il 46%, era sintomatico al momento del tampone, mentre i restanti 39 non lo erano. Di questi 39 in realtà poi una decina hanno sviluppato dei sintomi nei giorni successivi, quindi sono diventati sintomatici, però diciamo che se noi facciamo una fotografia in un determinato momento della popolazione, quello che ci dobbiamo aspettare è che più del 50% dei soggetti positivi siano asintomatici e questo si è confermato all'incirca in modo uguale anche nel secondo campionamento con il 45% di soggetti asintomatici. Appunto questi dati che abbiamo raccolto anche sulla clinica di questi soggetti ci hanno consentito anche di andare a indagare quella che è la carica virale nei soggetti, appunto andare a comparare la carica virale nei soggetti con sintomi rispetto a quelli senza sintomi. Qui vedete i risultati dei test molecolari effettuati sui tamponi, in particolare nei nostri laboratori andavamo a ricercare la presenza di due geni del virus, il gene E e il gene RDRP e come potete vedere la quantità di virus che noi abbiamo trovato in questi pazienti è praticamente comparabile nei soggetti in blu, quindi quelli asintomatici rispetto a quelli sintomatici in arancione. Questo cosa significa? Significa che potenzialmente entrambe le categorie possono essere infettive perché presentano appunto quantità comparabili di virus nel loro nasofaringe e se da un lato potremmo pensare che un soggetto sintomatico sia più facilmente in grado di trasmettere la malattia perché tosse, starnuti sono ovviamente dei fattori che aumentano il grado di dispersione del virus nell'ambiente da parte di un soggetto infetto. Dall'altro lato però dobbiamo considerare anche il fatto che un soggetto sintomatico ad un certo punto potrebbe anche decidere di rimanere a casa perché appunto sta male mentre un soggetto asintomatico continuerà a fare la sua attività di tutti i giorni quindi potrà venire in contatto potenzialmente con un numero anche molto elevato di persone. Altri risultati interessanti dello studio sono stati ottenuti correlando appunto la positività con altre variabili come età, sesso e qui appunto vedete che l'infezione è stata rilevata con maggiore frequenza nei maschi anche se questo dato è significativo soltanto nel secondo screening mentre per quanto riguarda la correlazione con l'età vedete come nella fascia di età fra 0 e 10 anni non abbiamo identificato nessun soggetto positivo e questo su oltre 230 bambini appartenenti a questa fascia di età che sono stati testati nei due campionamenti. Per quanto riguarda le altre fasce di età invece vediamo come la probabilità di risultare infetti aumenti all'aumentare proprio dell'età quindi rimanga più o meno stazionaria fino ai 50 anni poi invece aumenti in modo considerevole. Questi dati che abbiamo raccolto ci hanno consentito anche di implementare un modello matematico che ci consentisse di ottenere dei parametri anche fondamentali dell'epidemia. Questo è un modello di tipo 6, compartimentale, in cui la popolazione di un determinato contesto viene suddivisa in vari compartimenti appunto, quindi c'è il compartimento dei suscettibili quelli che possono essere infettati, poi ci sono gli esposti, quindi quelli che sono stati esposti al virus quindi sono infetti ma non ancora infettivi, poi questi diventeranno infettivi dopo un certo intervallo di tempo e alla fine recupereranno e torneranno allo stato precedente. Questo tipo di modello è il modello più semplice, SEIR, nel nostro studio abbiamo implementato una versione un po' più complessa che potesse tenere in considerazione anche la presenza dei presintomatici e la possibilità degli asintomatici infettivi e l'implementazione di questo modello ci ha consentito di individuare queste informazioni molto importanti ossia che il virus è molto probabilmente stato introdotto a voo all'inizio di febbraio e che circa il 5% della popolazione è stata esposta, quindi ha avuto l'infezione anche se solo metà di questi sono stati poi identificati con il tampone e abbiamo potuto stimare anche che l'introduzione della quarantena ha ridotto la trasmissione del virus in modo molto significativo tra l'80 e il 98% e che in assenza di queste misure fino all'85-86% della popolazione avrebbe potuto essere infettato. Prima di chiudere un ultimo aggiornamento, ossia all'inizio di maggio abbiamo fatto un ulteriore campionamento su tutta la popolazione volontaria di VOO e in questo caso è stato valutato non solo il tampone nosofaringio, quindi la ricerca del virus, ma è stato anche prelevato un campione di sangue per andare a ricercare gli anticorpi contro il virus, quindi effettuare i cosiddetti test sierologici. Qui vedete i risultati preliminari, sono ancora in corso di analisi molti di questi dati. Vedete di nuovo un'enorme adesione da parte della popolazione di VOO e la positività in questo caso si è attestata attorno al 4,8%, quindi di più di quella che avevamo rilevato con i tamponi e in linea con il modello che era stato implementato. Anche per quanto riguarda la correlazione con l'età, vedete che anche in questo caso c'è un aumento della positività con l'aumentare dell'età e in questo caso alcuni soggetti, anche giovani, sono stati identificati a essere positivi, anche se comunque è un numero molto limitato, sapendo anche noi che molti più di questi soggetti convivevano in realtà con genitori o altri fratelli infetti, quindi comunque è un dato più basso di quello che ci saremmo aspettati. Quindi in conclusione, con questo lavoro siamo stati in grado di dimostrare che la trasmissione di questo virus può essere bloccata nonostante l'alta quota, l'elevata quota di soggetti asintomatici che quindi sono difficilmente rintracciabili e questo può essere fatto soltanto attraverso una attenta sorveglianza e un'identificazione, scusate, molto precoce dei nuovi casi. Quindi questi due fattori sono i fattori chiave per controllare la trasmissione dell'infezione. L'altro dato importante è che il tampone nasofaringeo è in grado di rilevare soltanto l'infezione che è attiva in quel determinato momento sul soggetto, non invece l'eventuale esposizione precedente e per questo invece sono necessari studi sirologici trasversali che possono quindi complementare questa informazione. Prima di concludere vorrei soltanto ringraziare la popolazione di Vo che si è dimostrata davvero disponibilissima e ci ha consentito appure, quindi grazie a questa enorme affluenza di ottenere dei risultati davvero molto importanti e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Enrico, ti dirò che io avrei un sacco di domande da fare ma mi astengo. Adesso passiamo, giochiamo in casa con la professoressa Felicini, dico giochiamo in casa perché anche io sono un economista, non mi occupo di storia economica, sempre della serie Nessuno è Perfetto, la professoressa Felicini invece non solo si occupa di storia economica ma si occupa anche di pandemie, guarda. Sentiamo che cosa pensa di trarre come esperienza. Allora, di nuovo buongiorno a tutti, grazie dell'invito a questo Festival della Statistica. Siamo tutti qui ovviamente, è cosa di questi ultimi mesi soprattutto, ma a quantificare, misurare i dati relativi al Covid-19 sia sotto gli aspetti epidemiologici che sotto gli aspetti economici, delle sue conseguenze economiche. recentemente siamo ancora tutti preoccupati dal recente aggiornamento delle stime del Fondo Monetario Internazionale di poche settimane fa che prevede una contrazione del PIL mondiale oltre il 5% come conseguenza, sia pur di poco superiore al 5%. Quindi certamente i numeri sono fondamentali e dunque sono contenta e anche grata per l'invito che si sia trovato invece uno spazio per una riflessione storica, quindi sulle storie, sulla storia e le storie delle pandemie, di precedenti esperienze. La storia infatti è costellata di epidemie, più o meno gravi. Reti di scambio e città brulicanti hanno reso nei secoli le società più ricche, ma al tempo stesso più vulnerabili, dagli imperi dell'antichità all'economia globalizzata del presente. E al tempo stesso, se la storia è costellata di epidemie, le epidemie cambiano il corso della storia. Primo esempio che mi viene in mente, la peste che colpì la città-stato di Atene nel V secolo a.C., 430 pressa poco, in piena guerra del Peloponneso contro Sparta, la peste uccide Pericle, cioè il leader di Atene, e cambia le sorti della guerra e della storia successiva. Tra l'altro lo Tucidide, lo storico Tucidide, osserva acutamente che una delle sue prime conseguenze fu una grandissima inflazione, perché gli Atenesi, ritenendo che non sarebbero vissuti a lungo, oggi diremmo che non avevano, l'aspettativa di vita degli Atenesi si era accorciata, iniziarono, con dice Tucidide, a spendere indiscriminatamente, sfingendo dunque i prezzi verso l'alto. Anche la peste di Giustiniano, scoppiata mille anni dopo nell'impero romano d'Oriente, 540-541, dimezza la popolazione di Costantinopoli, nel complesso si stima che uccise 25 milioni di persone. Ricordo qui un piccolo caveat che sono macro dati estrapolati dalla somma di statistiche locali, siamo in una fase che gli storici chiamano pre-statistica e quindi diciamo hanno un'attendibilità relativa, solo gli studi condotti a livello locale hanno un effetto, come quelli che fece Carlo Cipolla ai tempi, recentemente Guido Alfani, hanno un'effettiva attendibilità perché sono fatti su fonti, su campioni, diciamo ridotti e con fonti attendibili. Però, diciamo, fidiamoci dei numeri che ci danno gli storici dell'epidemiologia, dei macronumeri. La peste di Giustiniano riduce la rete degli scambi che è la forza dell'impero romano d'Oriente soprattutto, tanto da segnare, si dice, il passaggio dall'antichità al Medioevo, cioè modifica il volto economico diciamo delle società del tempo, delle società mediterranee del tempo. Veniamo forse alla peste quella più nota, la peste nera del 300, quella che fa da sfondo al Decamerone di Boccaccio ed è quella con il peggior tasso di mortalità calcolato, provocata da diversi cepi virali, l'epidemia infuria in Europa tra la fine degli anni 40, del 300 e i primi anni 50 stermina da un terzo a due terzi della popolazione europea a seconda delle zone. In Spagna gli studi hanno detto parlano del 65% della popolazione morta, in Toscana il 50%. dunque uno vero e proprio shock demografico perché non mi pronuncio sulla tragedia umana, gli economisti sembrano sempre dei grandi cinici anche quando parliamo della guerra e misuriamo gli effetti economici della guerra sembra che i morti non li guardiamo quindi non consideratemi affatto, non sono affatto cinica personalmente ma in questo momento stiamo ragionando con questo tipo di metro. vediamo gli effetti economici della peste nera inizialmente un caos città bloccate perdita di controllo del territorio rallentamento della produzione dei consumi perché gli scambi non erano più praticabili né praticati impennata dei prezzi quindi una situazione dal punto di vista economico oltre che dal punto di vista umano devastante ma nel medio e lungo periodo si profila uno scenario è un po' diverso in seguito all'altissimo numero di decessi abbiamo parlato di uno shock demografico la mano d'opera inizia a scarseggiare e la scarsità di mano d'opera aumenta il potere contrattuale dei lavoratori in qualche modo i proprietari terrieri se volevano che qualcuno lavorasse i loro campi dovevano pagare salari più alti così come i proprietari delle manifatture se volevano operai nelle loro officine ad esempio il governo inglese tenta un intervento sul mercato del lavoro introducendo limitazioni alla libertà del movimento dei lavoratori che si spostavano laddove le paghe erano più alte ma non ci riesce il controllo del territorio è polverizzato già scarso nel 300 è polverizzato e i lavoratori continuano a spostarsi dove le paghe sono migliori e qui abbiamo delle fonti perché le parrocchie che ricevono questi nuovi lavoratori registrano in qualche modo le fonti degli organismi religiosi sono fondamentali in epoca pre-statistica nel complesso quindi c'è un aumento dei salari e un miglioramento delle condizioni di vita di quelle fasce di popolazione che sino allora erano state più povere studi autorevoli hanno dimostrato che dopo la peste nera è l'unica fase in cui temporaneamente le diseguaglianze si riducono tra il quattordicesimo e il diciottesimo secolo l'unico momento in cui la forbice si stringe oltre a questa mobilità sociale mobilità territoriale c'è anche una notevole mobilità sociale emergono i cosiddetti omines novi grazie da un lato alle retribuzioni più alte all'aumento dei prezzi e in molti casi alla concentrazione delle eredità ricevute ci si ritrova a essere eredi unici eredi di una serie di rami familiari ci sono molti quelli che si trovano a disporre di maggiori risorse sia da investire tipicamente nell'investimento immobiliare ma anche da spendere i consumi crescono in particolare dei beni manufatti prodotti nelle città quindi l'economia si riprende gli scambi commerciali di nuovo aumentano e anzi ci sono fenomeni di urbanizzazione più intensi quindi quelle città che si erano spopolate erano state abbandonate o avevano registrato il maggior numero di morti durante la peste di nuovo invece si rivivificano ed è in quel fenomeno di urbanizzazione che pesca che affonda le sue radici la fioritura delle città rinascimentali del secolo successivo quindi per quanto possa apparire un paradosso della storia dopo una tragedia come la peste nera nel medio lungo periodo la maggioranza delle persone che sopravvissero ovviamente godettero di standard di vita migliori probabilmente l'epidemia più evocata in questi mesi dal diciamo sia nella divulgazione che negli studi è la spagnola diciamo è l'epidemia di spagnola non solo perché è relativamente vicina nel tempo cioè diciamo ci sono cento anni ma poi perché è un influenza quindi anche epidemiologicamente in qualche modo paragonabile a quella attuale arriva nel marzo del 1918 durante gli ultimi mesi della prima guerra mondiale in Europa ovviamente il contagio è favorito dagli spostamenti delle truppe dalle condizioni igienico-sanitarie basti pensare alla vita nelle trincee ma anche fuori diciamo dalle trincee dai campi di battaglia gli ospedali sovraffollati la scarsa igiene la malnutrizione contribuiscono non solo alla diffusione ma allo sviluppo di quelle complicanze batteriche che contribuivano alla mortalità ricordiamoci che siamo in epoca antepenicillina e quindi diciamo le complicanze batteriche incidono altrettanto fortemente se non di più degli aspetti strettamente virali il virus si diffonde in ondate successive in tutto il mondo anche in paesi non belligeranti e lontanissimi dal teatro di guerra per esempio la Nuova Zelanda che ha un altissimo tasso di mortalità si stima presto a poco che diciamo almeno io mi sono andata a leggere qualche studio epidemiologico circa 500 milioni di persone siano state infettate in tutto il mondo su una popolazione mondiale presto a poco di 2 miliardi ma qui Mauro Gasparini mi farà le pulci mi correggerà se è necessario in Italia le vittime sono almeno 600 mila su una popolazione pressa poco di 40 milioni di abitanti all'epoca quindi un'incidenza 1,5% diciamo una mortalità un tasso di mortalità dell'1,5% dicevo la spagnola è stata studiata moltissimo dal punto di vista epidemiologico se andiamo sui siti delle riviste scientifiche ce n'è una fioritura è stata studiata anche recentemente sono stati pubblicati testi dal punto di vista degli effetti sulla vita quotidiana sulla psicologia collettiva che ci aiutano forse a comprendere meglio l'agire umano durante la pandemia molto più difficile è analizzarne le conseguenze economiche anche perché sono inevitabilmente intrecciate con quelle della guerra la spagnola arriva quando i paesi europei sono impegnati da un lato in una difficile riconversione diciamo produttiva da un'economia di guerra a un'economia civile una fase di tensioni sociali il bienio rosso non c'è solo in Italia ma c'è anche in altri paesi come in Inghilterra di transizioni politico-istituzionali cruciali basti pensare alla Germania la grande sconfitta della guerra che vive la fine del Reich Guglielmino e diciamo l'inizio dell'esperienza della Repubblica così controversa della Repubblica di Weimar quindi un'Europa in una fase difficilissima su cui si aggiunge anche la spagnola ma che rende questa fase così difficile rende ancora più difficile misurare gli effetti stretti dell'epidemia eravamo in pieno caos monetario il gold standard era andato si era polverizzato debito pubblico impennato perché tutti i governi avevano contratto grandi debiti per finanziare la partecipazione al conflitto quindi cosa si può attribuire all'epidemia e cosa alle conseguenze economiche della guerra poi come diceva Keynes anche le conseguenze economiche della pace dopo che sarebbero state ancora più avrebbero ulteriormente alimentato l'instabilità un dato significativo da questo punto di vista potrebbe essere quello del PIL c'è un grande storico economico americano Angus Madison che si è cimentato in questa ricostruzione del PIL mondiale da Nefertiti ad oggi quindi con tutte le con cui dobbiamo prendere i dati delle ricostruzioni di Madison però diciamo che il PIL pro capite dell'Europa occidentale cala del 3-4 3,5% nel 18 del 6% nel 19 in piena epidemia ma poi nel 20 risale al 4% al 4% quindi diciamo che qualche cosa sull'incidenza dell'epidemia questo macro dato ce lo dice per avere un'idea degli effetti economici ci può essere utile il caso degli Stati Uniti in cui sono stati fatti moltissimi studi gli archivi hanno conservato molte tracce per capirci molto banalmente quelle immagini di centraliniste con la mascherina eccetera che sono circolate nei mesi scorsi sul web eccetera vengono quasi tutte da archivi americani lì la Spagnola colpisce alcune città in modo violento Filadelfia nelle prime due settimane ha un enorme numero di morti i cadaveri vengono ammucchiati ai bordi delle strade e poi sepolti in fosse comuni con scenari medievali rispetto agli Stati Uniti del 18-19 ma anche laddove lo scenario e la mortalità non era così drammatica e quindi lo scenario non così apocalittico l'economia va incontro a molte difficoltà la stampa locale ci aiuta a capire da questo punto di vista nell'Arkansas a Little Rock per capirci la città di cui originario era originario l'ex presidente Clinton i negozianti lamentano il calo del loro giro d'affari dal 40 al 70% e un dimezzamento degli utili nel Tennessee molte miniere chiudevano o erano sull'orlo della chiusura in una cittadina carbonifera per esempio dal nome evocativo Caulfield solo il 2% della popolazione è sana ed è in grado di lavorare anche qui i dati locali sono quelli più attendibili e un po' come diciamo lo studio con il focus ristretto che Enrico Lavezzo ha fatto su Vò ha presentato su Vò ci dicono molto e sono anche forse il paradigma di altre realtà gli Stati Uniti hanno ricordiamo circa 700.000 morti per la spagnola nel complesso la maggior parte delle imprese diciamo affronta grandi problemi economici chiusura temporanea delle aziende produttrici di non solo di prodotti finali ma anche di componentistica calo della domanda calo della produzione diciamo di materie prime i servizi primari in contrazione a New York tutti si lamentano del fatto che sia i servizi di comunicazione che i servizi di trasporto non funzionano e dunque l'attività economica non si può svolgere a proposito di New York e il mercato finanziario che cosa fa cosa fa la New York Stock Exchange che proprio in quella fase si avviava a diventare la borsa la borsa dominante del mercato finanziario mondiale stava in qualche modo la staffetta stava passando dalla borsa di Londra dalla City di Londra a New York la borsa di Wall Street era già stata dominata come prevedibile dai timori del conflitto il mercato azionario aveva seguito diciamo da vicino i trend del mercato azionario l'andamento del conflitto per esempio era crollato nel novembre del 17 quello che per noi è il dopo caporetto ma per tutti è una previsione di andamento della guerra che poi sarebbe stato smentito in qualche modo quindi poi le aspettative circa la fine del conflitto avevano spinto verso una ripresa ma proprio in quella fase di ripresa del mercato finanziario arriva la spagnola provoca una nuova flessione anche se all'inizio di entità contenuta gli scambi diciamo in qualche modo vanno una sorta di letargo per diciamo nell'attesa che l'epidemia passi ma poi alla fine del febbraio del 19 i mercati finanziari americani hanno già recuperato tutto quello che avevano perduto e gli Stati Uniti con buona pace dell'epidemia non ancora terminata sono già pronti per i roaring twenties cioè per i ruggenti anni venti quindi la borsa di Wall Street questo anche a capire che non è sempre un indicatore fedele di quello che sta avvenendo la ripresa della borsa precede quella delle attività economiche produttive in qualche modo anzi in certa misura forse possiamo dire fa da traimi in conclusione quello che posso dire è che gli effetti economici delle pandemie vanno analizzati attentamente caso per caso in questo caso l'attendibilità delle fonti è fondamentale non solo fake news ma fake information fake sources sono sono frequenti però certamente le pandemie non influiscono solo pesantemente su redditi produzioni e consumi ma in certa misura possiamo dire che plasmano le gerarchie mondiali diciamo quella attuale ha già inciso certamente inciderà ulteriormente sulle dinamiche dell'economia mondiale con le sue catene globali del valore messe a dura prova no? da limitazioni chiusure un funzionamento del mercato mondiale a canne d'organo in qualche modo ulteriormente condizionato dal covid a questo punto l'unica cosa è lasciar io lasciarvi con un interrogativo perché sono una storica quindi non faccio previsioni guardo indietro quello che possiamo chiederci è in che misura e come quindi quanto e come la pandemia influirà sulla fase di deglobalizzazione che è già in atto da qualche tempo perché noi continuiamo a parlare di mondo globale ma siamo in una evidentissima fase di deglobalization diciamo ormai da qualche tempo quindi io vi lascio con un punto interrogativo perché diciamo non è mestiere dello storico noi possiamo fornire elementi di riflessione a coloro che poi speculano anche sul diciamo sul futuro grazie a tutti grazie Daniela aggiungo solo che invece gli storici non fanno previsioni gli economisti le fanno sbagliano perché non studiate abbastanza la storia è vero è vero tra l'altro è un problema perché oramai la storia economica la storia del pensiero economico cioè quella parte interessante a molti nelle facoltà come la mia non c'è o si sta perdendo Barbara Gallavotti che invece non è una storica credo di formazione quindi si sentirà libera di dire quello che vuole sì in realtà grazie grazie a voi dell'invito ovviamente sono onorata di essere con voi non sono una storica sono una biologa ero una biologa ma soprattutto sono una giornalista e quindi vi farò un racconto del giornalista ho intitolato diciamo un po' questo intervento come la medicina è divenuta scientifica perché noi ci siamo sempre confrontati con gli agenti infettivi ma è solo pochissimo tempo che ci confrontiamo con essi in maniera appunto che possiamo chiamare scientifica si citava prima la peste di Atene la peste di Atene come tante epidemie del passato come la vera parte dell'epidemia del passato la chiamiamo peste ma mica sappiamo a cosa era dovuta c'è chi pensa addirittura che fosse una febbre emorragica quindi qualcosa di affinebola sicuramente non ebola ma qualcosa di affine se andiamo alla peste Antonina che è imperversa Roma sotto Marco Aurelio beh in quel caso lì si pensa che potrebbe essere stata addirittura un'epidemia di morbillo non ci abbiamo sicurezze perché in realtà appunto nessuno le sapeva diagnosticare queste malattie né era particolarmente interessato a farlo perché tutto sommato dargli un nome sarebbe stata una questione accademica visto che non c'era modo né di prevenirle né di capire a cosa fossero dovute dal punto di vista della gente che le causava né tantomeno di affrontarle e a noi invece interesserebbe molto ovviamente sapere se si trattò di peste o di morbillo perché vogliamo sapere come si sono evoluti e come hanno circolato gli agenti infettivi che ancora ci minacciano ma non c'è modo di farlo almeno al momento ora io ho individuato un periodo di circa 15 anni va dal 1847 al 1861 in cui invece c'è stata una serie di eventi che hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vedere le malattie infettive ovviamente è un artificio perché qualsiasi risultato scientifico deriva da delle conoscenze precedenti e acquista un senso in base a quello che fa accadere dopo che accade dopo grazie a quelle conoscenze però mi piace usare quest'artificio perché ci sono tre passi che secondo me sono particolarmente interessanti il primo ci porta a Vienna nel 1847 Vienna capitale di un grande impero Francesco Giuseppe che poi diventerà il marito di Sissi per dire di aiutare a collocare l'epoca storica assalirà al trono l'anno successivo bene in questa grande capitale di questo fantastico impero come succedeva sempre a quell'epoca e come succede ancora oggi nei paesi più svantaggiati si moriva di parto ma dove si moriva di parto più frequentemente bene negli ospedali nell'ospedale di Vienna e a morire erano soprattutto più frequentemente le donne che venivano ricoverate nel reparto dove a assisterle non erano i medici non erano le infermiere le levatrici ma i medici e infatti chiunque poteva evitare di andare in quel reparto lo evitava in quel reparto in quegli anni lavorava un giovane medico aveva circa 30 anni era di origine ungherese si chiamava Ignazio Semmelweis che si chiede come mai queste donne muoiono in questa frequenza spaventosa parliamo del 20% delle partorienti una su 5 è una cifra veramente raccapricciante beh cosa fa guarda guarda cosa succede si rende conto che a parte che le condizioni igieniche dell'ospedale erano spaventose le lenzuole erano sporche non venivano cambiate e così via si rende conto che i medici che assistevano le donne passavano tranquillamente dalla sala di sezione dei cadaveri dove venivano fatte le autopsie alla sala al reparto dove si partoriva senza lavarsi le mani e allora impone ai colleghi di lavarsi le mani la mortalità delle partorienti crolla di 100 volte sarebbe stato un grande successo ma viene osteggiato un po' perché ungherese insomma questi grandi imperi non sono mai purtroppo soprattutto all'epoca esemite di una certa campanilismo locale e un po' soprattutto perché insomma nessuno capisce il nesso fra lavarsi le mani e far morire le pazienti perché nessuno sa che quelle febbri che sviluppavano le puerpere altissime erano dovute a infezioni batteriche Samuel Weiss verrà ostracizzato e finirà per morire in un ospedale psichiatrico ma la storia va avanti e ci porta a Londra nel 1854 bene Londra ancora una volta grande città la regina la regina vittoria grande soft power diciamo potere così di impressionare il mondo Londra è la città di David Copperfield è la città dove ci sono dei sobborghi in condizioni terribili uno di questi è Soho a Soho ci sono le concerie di pelli le carcasse degli animali vengono buttate nei corsi d'acqua non esistono fognature ci sono fosse settiche poste direttamente sotto le assi delle cantine bene non stupisce che scoppia un'epidemia di colera a cosa è dovuta la popolazione terrorizzata si pensa come si è sempre pensato all'aria ai miasmi ma mentre chi può tenta di fuggire un medico si chiama John Snow va a Soho e fa una cosa rivoluzionaria si mette a contare conta le persone ammalate e traccia con un puntino sulla mappa del quartiere l'abitazione di ciascuno di loro ed ecco che l'epidemia assume un aspetto totalmente diverso si vedono che tutti i casi delle persone che sono ammalate in qualche modo afferiscono a una pompa d'acqua si trova Broad Street chi si serve a quella pompa ha evidentemente una più alta probabilità di ammalarsi però ci sono delle eccezioni ci sono dei bambini che abitano più lontano ma Snow si rende conto che nel percorso per andare a scuola utilizzano anche loro quella pompa poi ci sono dei lavoranti di una birreria e loro non si ammalano anche se sono vicini alla pompa come mai? beh bevono solo birra possiamo immaginare che avessero un sacco di problemi di salute ma non il colera insomma Snow capisce che l'epidemia è dovuta in qualche modo all'utilizzo di quella pompa d'acqua la fa chiudere e finisce l'epidemia di colera Londra ma soprattutto nasce l'epidemiologia i medici i scienziati capiscono l'importanza di tracciare il percorso di un contagio di contare il numero di contagiati e soprattutto di interpretare correttamente i dati che è quello che viene ancora fatto e poi abbiamo visto nella presentazione del caso di Vaux con metodi immensamente più raffinati anche metodi statisticamente immensamente più raffinati ma l'idea fondamentale resta quella di contare e di interpretare correttamente i risultati l'ultimo passo perché non siamo ancora arrivati a capire cosa causi queste epidemie bene nel 1861 un chimico francese si chiama Louis Pasteur pubblica la teoria dei germi le malattie almeno buona parte di esse sono causate da infezioni batteriche anche qui in questo caso è vero lui si basa molto sui risultati di altri colleghi pensiamo solo a Koch il grande genio della microbiologia tedesco ma Pasteur fa qualcosa di straordinario basandosi finalmente su questa informazione che nessuno per millenni aveva mai avuto prima nonostante i batteri si vedessero al microscopio già ormai da qualche secolo beh basandosi su questa ipotesi costruisce i primi vaccini dopo quello di Jenner contro il vaiolo che era stato testato la prima volta nel 1782 ecco c'è ancora un passo stavo guardando i tempi forse mi posso permettere di aggiungerlo c'è ancora un passo importante che viene fatto perché a un certo punto Pasteur dopo aver messo a punto il vaccino contro il colera dei polli e delle altre armi vaccinali riesce a mettere a punto il vaccino contro la rabbia è una storia particolarmente appassionante perché il primo a essere vaccinato è un bambino si chiama Joseph è un bambino di 9 anni è stato morso da un cane per chi è stato infettato dalla rabbia il rischio è di morire del 100% quindi i genitori disperati portano la madre portano il bambino da Pasteur ma Pasteur non è un medico ha ovviamente delle remore a trattare un bambino non ci sono alternative lo sottopone a questo primo esperimento di vaccinazione contro la rabbia e funziona perché è notevole perché la rabbia non è causata da un batterio è causata da un virus e quindi a questo punto il virus Pasteur al microscopio non lo poteva vedere però a questo punto le conoscenze sono già a un livello tale per cui si capisce che quella malattia deve essere causata da un agente infettivo che può essere attenuato e può essere in qualche modo utilizzato per fare un vaccino e questo è un avanzamento delle conoscenze straordinarie a che punto siamo oggi? Beh tutte queste storie che vi ho raccontato naturalmente hanno un seguito proseguono ancora oggi prosegue ovviamente il metodo scientifico di osservare le condizioni dei pazienti e cercare di capire cos'è che li faccia stare male come è successo con Semmelweis l'epidemiologia l'abbiamo visto è inutile che lo ripeto è un'arma essenziale nel nostro modo di contrastare i microbi e la statistica ha un ruolo fondamentale centrale nell'epidemiologia ma la statistica è fondamentale anche nello studio di agenti infettivi come virus batteri e non solo vi faccio un ultimo esempio e poi chiudo Basilea è in corso uno studio che mira a identificare fra i batteri i diversi ceppi batterici che causano la tubercolosi quali hanno la potenzialità di diventare resistenti a tutti i farmaci possibili e quindi rappresentare una minaccia addirittura per la salute globale ricordiamoci che oggi la tubercolosi resta in molte parti del mondo una malattia estremamente grave e la resistenza agli antibiotici per il batterio della tubercolosi fa molte decine di migliaia di morti all'anno credo 200.000 bene allora per capire quali sono questi i batteri che possono diventare super resistenti e bloccarli fermarli identificare i casi a rischio prima che possano essere sorgenti di epidemia beh sono necessari dei calcoli molto complicati occorre prendere in considerazione molti batteri diversi fare molti ceppi batterici diversi fare studiarne il DNA ed è insomma un campo di studio in cui non solo sono essenziali medici e biologi ma servono assolutamente anche esperti di statistica di informatica e di matematica la statistica sempre di più è una strumento irrinunciabile anche nella medicina grazie grazie Barbara grazie Monte abbiamo uno statistico guarda caso non so se di formazione ma insomma le statistiche contano e chissà che riusciamo a capirlo anche anche noi per riuscire a ottimizzare la prossima fase adesso non è solo un problema storico appunto la storia ci serve per capire i dati ma intanto i dati devono essere censiti regolarmente e con e mantenendo la qualità professor Gasparini lei che dice questo proposito bene buongiorno a tutti grazie io sono qui un po' in rappresentanza del padrone di casa perché questo è il festival dell'Istat e della società italiana di statistica e io sono faccio parte anche lavoro anche all'Istat ma soprattutto sono qui appunto come un ricercatore che si è occupato in diverse fasi della sua vita di prove cliniche perché le prove cliniche sono un esempio importante di applicazione della statistica in un contesto industriale che ha un'importanza sociale civile molto alta allora dichiaro subito che io ho lavorato nell'industria farmaceutica quindi questo lo dico a modi per esplicitare i conflitti di interesse di cui qualcuno può accusarmi quindi dico subito che buongiorno a tutti grazie io sono qui con che sì che il scusate allora io ho lavorato nell'industria farmaceutica e ho continuato a lavorare con le aziende farmaceutiche adesso che insegno all'università al Politecnico le collaborazioni con le aziende farmaceutiche sono soprattutto in termini di sponsorizzazione di studenti ho un sacco di miei laureati vanno a fare degli stage pre e post laurea nelle aziende farmaceutiche e le aziende farmaceutiche mi hanno sponsorizzato diverse borse di dottorato che è una cosa importante secondo me anche dal punto di vista della crescita della nostra società allora la dottoressa Galavotti mi ha fatto grazie dell'invito che mi ha fatto perché ha citato i grandi predecessori delle prove cliniche che sono Semmelweis Snow Pasteur Cox Halk e queste tutte queste persone nel tempo hanno contribuito a costruire una cultura della sperimentazione clinica che adesso nella società odierna possiamo implementare con la potenza industriale di cui disponiamo quindi è naturale che a meno nel mondo occidentale chiamiamolo così per semplificare tutta la potenza industriale che abbiamo venga irregimentata e venga dedicata allo sforzo di trovare delle nuove medicine in questo sforzo di trovare le nuove medicine il medico e lo statistico sono quasi pari ovviamente il medico è importante perché ricerca ma lo statistico certifica che le procedure che sono state fatte nella analisi dei dati per la sicurezza e l'efficacia delle medicine siano corrette quindi è una importante luogo in cui lo statistico e la statistica appare in primo piano i risultati delle prove cliniche sono ovviamente affetti da incertezza come tutte le le sperimentazioni non abbiamo purtroppo non c'è ancora parlerò un attimo verso la fine del mio intervento non c'è ancora una cultura statistica e matematica sufficiente per capire che tutti i risultati che noi abbiamo dalla scienza sono comunque affetti da incertezza specialmente i risultati che hanno a che fare con animali con macchine complesse come sono gli esseri umani è importante che nella analisi dei risultati delle prove cliniche intervenga anche uno statistico ora il sistema delle prove cliniche che noi abbiamo sviluppato nel mondo occidentale è molto avanzato ed è una cosa di cui noi dovremmo essere fieri cioè purtroppo nella cultura popolare nei film la big pharma e anche nei linguaggi dei politici spesso la big pharma sono i cattivi vengono accusati delle malefatte più oscure beh in realtà ci sono alcuni aspetti di cui dovremmo essere molto fieri cioè noi abbiamo un sistema per cui le aziende farmaceutiche si assumono il rischio di impresa di fare ricerca investono migliaia miliardi di euro milioni di euro nella sperimentazione molti anni e molto tempo molte persone vengono dedicate a questa ricerca e vengono premiate da un sistema di controllo pubblico con il sistema dei brevetti quindi abbiamo un perfetto bilanciamento tra l'iniziativa privata e il rischio di impresa che assumono le aziende farmaceutiche e il controllo pubblico perché? perché le autorità sanitarie e molti di voi le conoscono le autorità sanitarie sono l'FDA in America l'EMA in Europa e poi c'è anche l'equivalente giapponese che poi si diramano in Europa l'EMA si dirama nelle singole nazioni come autorità sanitarie delle singole nazioni in Italia abbiamo l'agenzia del farmaco eccetera bene tutto questo sistema pubblico di controllo è molto importante per dare sia una disciplina sia una qualità assicurare la qualità dei dati che provengono dalle aziende farmaceutiche e per fornire i brevetti che poi con i quali poi le aziende farmaceutiche vengono remunerate ora perché parlo di questo perché noi nella prossima fase noi dovremmo fare i vaccini fare i vaccini allora noi tra le tante cose buone che abbiamo sviluppato nel mondo occidentale c'è oltre a questo controllo pubblico dell'iniziativa privata delle aziende ci sono cose belle come il registro pubblico delle prove cliniche tutti si possono collegare a un sito web se voi cercate www.clinicaltrialsregister.eu per esempio in Europa potete vedere tutte le prove cliniche che sono in corso adesso oppure altra cosa importante le prove che è stata citata prima dal professor Lavezzo i partecipanti a una prova clinica e quello del professor Lavezzo era diciamo così una prova a metà tra l'epidemiologica e il clinico danno sempre il consenso informato e sono volontari ci si può sempre ritirare da una prova clinica in occidente e quindi queste sono cose importanti sono i risultati di democrazia di cui dobbiamo essere sì dobbiamo essere fieri non sono non si può dire la stessa cosa della Russia e della Cina perché in questo momento vengono sviluppati dei vaccini russi in Cina che non sappiamo se possono o meno considerarsi aderenti alle stesse procedure che di cui noi dobbiamo essere fieri in occidente bene i vaccini oggi sono sicuri perché sono costruiti con tecniche di ingegneria genetica e i vaccini costruiscono come tutta la scienza come diceva prima la dottoressa Galavotti si costruisce sulle conoscenze precedenti la storia della scienza non è una storia lineare di crescita sempre positiva e lineare delle conoscenze però senz'altro c'è questo effetto di accumulazione quindi anche nei vaccini noi stiamo costruendo su quello che si sa dal passato e il motivo per cui noi abbiamo potuto prendere delle azioni efficaci nel controllo del covid è perché i coronavirus sono stati studiati da diversi anni biologi e medici conoscono il comportamento perlomeno di questa classe di vaccini quindi è importante che noi teniamo conto di quello che è stato fatto in passato allora la mia storia siccome questo intervento si fa riferimento alle storie del covid la mia storia è quella del fatto che durante l'isolamento io stavo insegnando un corso in cui insegnavo statistica e machine learning con un collega abbiamo allestito un corso in cui si fanno vedere i pro e i contro di diversi approcci all'analisi dei dati tra cui anche il machine learning che è un po' una cosa nuova che sta affiancando la statistica nell'analisi dei dati ora la cosa simpatica da un certo punto simpatica dall'altro punto un po' preoccupante che è successa è che tutti gli studenti molti studenti prendevano l'iniziativa di analizzare loro stessi i dati perché nella società dell'informazione abbiamo una quantità enorme di dati che vengono pubblicati sul covid allora ogni studente provava a fare i suoi modellini avevo diversi studenti che mi mandavano dei modellini esponenziali il SIR eccetera eccetera sull'epidemia e questo ripeto ha dei pro e dei contro ci sono delle cose positive che mostrano che comunque il livello di enumerazione di enumerarsi della popolazione cresce con il progredire del tempo quindi questa è una cosa positiva d'altra parte c'è il pericolo dell'eccessiva improvvisazione in certi campi non si può improvvisare ma bisogna come ho detto come stavo dicendo prima per proposito della biologia anche per i modelli matematici modelli statistici bisogna costruire sulle spalle dei giganti cioè bisogna sapere quello che è stato fatto finora cosa è stato fatto nella scienza studiare e fare tesoro delle conoscenze che sono state accumulate in passato per esempio è stato citato prima il modello il modello Seir ha le sue radici già negli anni trenta nei primi l'embreone del modello SIR è stato fatto da Kermak che è la prima cosa che ho detto ai miei studenti che si appassionavano in maniera così dilettantesca ai modelli andatevi a studiare i modelli SIR che sono la prima cosa e le loro complicazioni e quello che viene usato al giorno d'oggi e questa è la mia storia e grazie grazie io devo dire grazie a tutti abbiamo finito il tempo più o meno però siamo stati puntuali per effetti la prossima fase credo che sia impegnativa sarà impegnativa per tutti naturalmente di più per colleghi come l'avezzo di più con colleghi statistici insomma comunque che hanno a che fare con i dati aggiungo solo una postilla che mi viene dalla mia esperienza io sono immeritatamente il presidente per l'Italia di un'associazione che si occupa di cultura economica e di scolarizzazione della dell'economia che in Italia è bassa bassa per non dire ma vedete questo mettere insieme diverse persone diverse competenze probabilmente è una strada che va seguita e va in qualche modo implementata nella didattica a tutti i livelli a me viene e finisco subito a me viene da pensare che i numeri e il processamento di questi numeri non passa per una cultura dei di di come studiosi ma anche come docenti perché ad oggi non c'è una cultura del dato che possa poi essere utilizzata per fare anche qualche passo avanti non ce l'abbiamo la dovremmo avere ma tanto comunque credo che le prossime fasi fase 2 fase 3 fase N ci costringeranno a lavorare anche in maniera intelligente sui dati insomma grazie a tutti ci vediamo presto tanto bene o male le esperienze si incrociano grazie molto di nuovo arrivederci grazie 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 a Dario in regia arrivederci sì infatti grazie regia regia ha funzionato perfettamente grazie a Dario grazie a Dario